La salute mentale scende in piazza, siamo con la dottoressa Elena Napoleoni del Centro di Salute Mentale di Rieti per parlare di un tema di stringente attualità, la depressione. Buongiorno a tutti, la depressione è quest'anno al centro della giornata mondiale della salute mentale perché? Perché è purtroppo la seconda malattia nel mondo dopo le malattie cardiovascolari ed è un fenomeno, purtroppo, una malattia che è in aumento presso tutta la popolazione mondiale. Dottoressa, mi consenta, non sempre sono raccolti dal soggetto, da chi sta intorno al soggetto i segnali che parlano di una depressione incipiente, un intervento precoce potrebbe molto? Assolutamente sì, i segnali sono abbastanza riconoscibili sia dalla persona che dai familiari ma spesso per paura anche di comprendere cosa sta accadendo, c'è una minimizzazione e non ci si prende poi cura di questo aspetto. Sicuramente i segnali sono una perdita dell'interesse verso le cose per le quali prima si aveva un'attenzione, si possono avere dei disturbi del sonno o in aumento del sonno, spesso c'è il fenomeno dell'insonnia, ci può essere una forte agitazione un aspetto anche del pensare, lo chiamiamo di ruminare, cioè pensare continuamente a quelli che sono gli errori del passato e una chiusura all'interno di sé, anche una chiusura sociale, una chiusura sicuramente all'interno della famiglia e anche nei rapporti più esterni. Dottoressa, a suo avviso possono esistere correlazioni fra la depressione e l'abuso incipiente di sostanze stupefacenti o abuso di alcol? Spesso le persone ricorrono non con consapevolezza ma proprio per alleviare il disagio che provano all'uso di alcol e all'uso di sostanze, quindi come se fosse una forma di autocura. Sicuramente queste derive ci mostrano che la persona è in un forte stato di disagio di cui si occupa però in una modalità certamente non funzionale, nel senso che magari può avere una risposta immediata di benessere ma poi sappiamo che entra in un mondo della dipendenza e quindi diventa molto pericolosa come tipo di risposta. La depressione oggi, in che cosa è cambiata dal punto di vista delle cause e delle manifestazioni? Questa è un'ottima domanda, mi permette proprio di illustrare un fenomeno, il cambiamento proprio di questa malattia. In che senso? Sicuramente è legata a motivi sia personali ma anche sociali. Stiamo assistendo anche come domanda che arriva ai nostri centri di salute mentale, una domanda che è spinta spesso da una condizione di disagio, condizione economica, la perdita del lavoro, quindi sono sicuramente degli aspetti negativi importanti nella vita della persona, più anche ovviamente degli aspetti personali che possono esistere nella vita di ognuno. Il modo in cui si manifesta è questa la differenza con la depressione del passato. Allora noi avevamo nel passato, all'incirca fino al 68 possiamo porlo, fino agli anni 70, la depressione classica che quindi si verificava così anche nei secoli precedenti. Una depressione caratterizzata da fortissimi sensi di colpa, da questo dolore molto forte interno e anche da degli aspetti di autodistruttività in cui appunto il tema della colpa, della vergogna era il tema centrale. Questo perché? Perché nella società erano ancora forti delle norme, delle regole di riferimento e quindi spesso la depressione scattava come tutte anche altre forme di disagio laddove c'era una trasgressione, laddove la persona si trovava in conflitto tra un proprio desiderio, dei propri bisogni, un tentativo di realizzarli e delle norme rigide che in qualche modo o lo impedivano o che costringevano a fare altro. E quindi l'aspetto della colpa e della vergogna era un aspetto predominante. Nell'oggi in cui vediamo che c'è stato un grosso cambiamento sociale da una parte ha liberato se vogliamo da queste norme ma stiamo andando verso una società che non pone più limiti in nessuna direzione. Lo stiamo vedendo anche nel campo biologico ad esempio, le gravidanze che possono esserci molto oltre il limite fisiologico dato dalla natura o anche la morte, il fenomeno dell'accompagnamento alla morte che è combattuto a volte fino all'estremo con un accanimento terapeutico. È come se la chirurgia plastica che trasforma e stravolge a volte completamente il corpo della persona, è come se non ci sia più nulla che possa affermare quello che è un bisogno individuale. Ed è una società in cui quindi questo viene riconosciuto come un diritto ma è anche una società che chiede personalmente ad ognuno di impegnarsi, di essere attivo, di essere molto assertivo nella vita. E quindi è una società in cui il successo è basato sulla realizzazione e sul conseguimento di mete. Laddove non si riesce c'è un aspetto di impotenza, di fallimento, di disagio molto profondo. E quindi noi vediamo delle persone che sono in crisi perché non stanno riuscendo, non sanno più che cosa sono e dove possono andare. Non c'è più questo senso del limite e quindi c'è un ideale irraggiungibile se vogliamo e al confronto con questo ideale possono sorgere delle forme depressive molto gravi. E quindi abbiamo che cosa? Abbiamo anche delle forme ansiose, una depressione ansiosa, depressione agitata, oltre agli altri aspetti che vedevamo precedentemente. E chiudiamo, dottoressa, con un aspetto che sappiamo vi sta molto a cuore, che è un ostacolo sicuramente al perseguimento degli obiettivi della salute mentale, lo stigma. Certamente, lo stigma, quindi la vergogna, il senso di colpa che a volte le persone provano nell'essere malate. Quindi la vergogna che prova la persona, che provano anche i suoi familiari e che impedisce, ostacola fortemente la richiesta alla cura. Quindi il messaggio molto forte, molto importante che noi dobbiamo dare è che non ci può essere vergogna se si affetti da una malattia, perché la malattia mentale, lo dice appunto il termine stesso, è una malattia come le altre. Deve essere affrontata, può essere affrontata, può essere curata. Ma se, appunto, la vergogna è il chiudersi nella casa pensando che non si può chiedere aiuto, naturalmente questo impedisce anche una possibilità di risoluzione di questi problemi. intervento fondamentale nelle scuole? Certamente stiamo lavorando dal 2009 nelle scuole con vari progetti che hanno alla base l'aspetto informativo. Portare ai giovani le informazioni sui disagi mentali, su questi problemi e stimolare quindi anche un'attenzione e una sensibilità nei confronti delle persone che ne soffrono, ma anche nei confronti di se stessi. Prestare attenzione ed essere consapevoli del proprio benessere, della propria salute mentale e di tutto ciò che può contribuire a far star bene. E chiudiamo con un messaggio. Arieti, il Dipartimento di Salute Mentale c'è e non vuol far finta di... Assolutamente, ci siamo e spero che questa nostra presenza oggi, in questa giornata, siamo qui nella piazza del Comune e anche altri nostri colleghi sono al Perseo, stiamo diffondendo il nostro materiale informativo, stiamo parlando con le persone ed anche quest'anno stiamo chiedendo, dato che il tema forte di quest'anno è la depressione, quindi se vogliamo l'infelicità, la tristezza, appuntiamo anche l'interesse invece sulla felicità e quindi stiamo chiedendo alle persone i cinque motivi che le rendono felici, che a volte possono essere anche piccoli, ma scoprirli, essere attenti e dire sì, in fondo nella mia vita c'è, anche se ci sono i problemi, anche se ci sono le tristezze, anche se a volte arrivano delle prove dure che la vita purtroppo non risparmia a nessuno, però ognuno di noi forse può riconoscere, ed è importante che lo riconosca, che ci possono essere anche dei motivi di piccola gioia e di felicità che aiutano ad essere soddisfatti della propria vita, perché alla fine la felicità, come possiamo definirla? Possiamo definirla forse come essere soddisfatti della propria vita, dare un senso alla propria esistenza. Grazie davvero alla dottoressa Elena Napolioni del Centro di Salute Mentale di Riedi. Grazie a voi.